Un altro cult della rosticceria classica napoletana è la frittatina di pasta. Ovviamente nasce come frittatina di avanzi della pasta che rimane di solito nelle case e nei ristoranti. Poi man mano si è fatto questo classico, ovviamente fatta con bucatini, piselli, prosciutto e chi più ne ha più ne metta. Sono delle varianti, chi le fa addirittura con la carbonara o con la matriciana. È un pezzo della rosticceria che è saporito e buono da gustare in ogni momento della giornata. Ha i pasti che ve lo dico a fare, è un'esplosione di gusto e bontà. Io non mi nascondo che qualche volta le ho mangiate anche di notte. Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno fatto una donazione. Mi raccomando sotto il video, nella descrizione vicino alla ricetta, c'è il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale e renderlo sempre più competente e interessante. Andiamo a fare queste frittatine? Vai con la sigla! Allora, la ricetta per queste frittatine napoletane. Qui abbiamo una dose totale per 25 frittatine, diciamo medie, non troppo grandi e non troppo piccole. Una bella porzione persona. Abbiamo un litro di latte per la beciamella, 150 g di burro o margarina, 100 g di farina doppio zero, una farina normalissima. Sale 10 g, la noce moscata abbiamo un pizzico o se volete anche pepe se non vi piace la voce moscata. Nel ripieno della beciamella mettiamo a soffriggere cipolla e olio. Inseriamo il prosciutto cotto 250 g a dadini. 270 g di piselli piccoli cotti sarebbe un barattolo che troviamo nei supermercati. 80 g di parmigiano reggiano poi nella finitura dopo che abbiamo avuto il tutto ovviamente. 250 g di provola a cubetti. Per la pastella finale abbiamo 300 g di acqua e 150 g di farina doppio zero. Sale e pepe quanto basta. Un litro di olio nella pentola per friggere. Ovviamente deve essere abbondante l'olio. La prima cosa che andiamo a fare è la beciamella. Andiamo a mettere il burro a fiamma bassa in una pentola dal fondo spesso. Non usate pentole, vedete, vado a mettere la fiamma bassa. Non usate pentole dal fondo troppo sottili altrimenti rischia di attaccarsi con una classica che chiamava se c'era. Sciolto il burro e portato a ebollizione inseriamo la farina. Ecco in questo modo e facciamo stare sempre a fiamma bassa quasi a ebollizione anche la farina e il burro. Fatto ciò andiamo a inserire il latte in più riprese. Vedete, sempre a fiamma bassissima. Inizio prima una piccola quantità di latte in modo tale da avere una piccola crema iniziale. Vedete, normalmente si va a solidificare. Voi inserite sempre più latte e avremo un composto sempre più cremoso. Man mano che inseriamo il latte, vedete, fatto ciò ci fermiamo un attimo, portiamo a cremosità uniforme. Vi ricordo che il tutto sembra a fiamma bassissima. Potete fare anche a fiamma spenta, mentre con la fiamma accesa al minimo comunque manteniamo la temperatura. in modo tale da non arrivare che dopo ci vuole un sacco di tempo per cuocere tutto il latte freddo. Vedete, portiamo sempre a cremosità grazie al frustino a mano. Se lo fate con una cucchiaia di legno o di plastica, comunque si possono verificare dei grumi. Vedete, vi faccio vedere sempre a fiamma quasi spenta. In modo da mantenere solo un po' di calore. Giriamo sempre. Ogni volta che mettiamo una quantità di latte, poi a un certo punto alla fine diciamo che non c'è bisogno più di mettere man mano il latte, perché la cremosità è tale da inserire anche tutto il latte insieme, il restante. Adesso andiamo a inserire sempre un'altra piccola quantità di latte. Ecco, in questo modo. Vedete che il composto inizialmente tende a fare grumi, quindi poi dopo, grazie al nostro frustino a mano, diventa sempre liscio. Fatto ciò, adesso possiamo inserire anche tutto il restante latte, perché la cremosità è al punto giusto da inserire tutti i liquidi. E adesso portiamo a cottura come una semplice crema pasticcera, per farvi un esempio. All'atto che il composto arriva in ebollizione e fuma, che si vede diciamo che diventa ben densa, la nostra beciamella è pronta. Il latte e gli aromi li aggiungiamo una volta cotta la beciamella, che tende comunque a stringersi di composto, di composizione. Quindi, noi nel frattempo giriamo di tanto in tanto. Vedete che man mano il composto si va a solidificare. Vedete? Ecco, a questo punto già si sta diventando più densa. Ecco, vedete che man mano inizia a fumare anche il composto, ed è diventato abbastanza denso. Facciamo arrivare a bollore giusto il tempo che arriva a bollore, spegniamo sotto la pentola. Ecco, faccio vedere se è ancora a fiamma piccola, accesa. Vi dicevo, il tempo che arriva a bollore, vedete adesso siamo alla consistenza giustissima, non deve essere troppo dura, perché poi comunque va a restringersi il composto, si va a raffreddare insieme alla pasta, quindi ecco qua, adesso è spento. Se spegniamo troppo tardi la facciamo diventare troppo dura, a finire il composto, poi dopo adesso mettiamo gli aromi sale e la noce moscata, giriamo per bene. Come vi dicevo, se facciamo una beciamella carica con più farina, abbiamo una beciamella dura, ecco, da mettere la noce moscata, ovviamente quando ho finito la lavorazione. Vi dicevo, se abbiamo una beciamella troppo dura, dopo, cioè già in fase di calore, di caldo, dopo quando va in raffreddamento, sarà una beciamella ancora più dura e secca, non darà la morbidezza, diciamo, quando andiamo a friggere la frittatina, che è un momento, diciamo, che ha altro calore. Adesso vado a mettere un po' d'olio e un po' di cipolla a soffriggere, circa uno spicchietto di cipolla, vedete? Ovviamente potete mettere anche un po' più di cipolla, ma non c'è bisogno. Questa è la quantità giusta. Nel momento che inizia a soffriggere la cipolla, nell'olio inseriamo il prosciutto cotto a dadini e facciamo soffriggere il tutto per un, penso, cinque minuti, non di più. Giriamo di tanto in tanto. Fatto soffriggere il tutto, andiamo a inserire i piselli cotti e giriamo sempre il tutto. Fatto stare per circa cinque minuti, inseriamo un poco d'acqua e facciamo immergere il composto a livello, diciamo, del composto in modo tale da far cuocere un altro poco i piselli. Vedete, vado a mettere l'acqua giusto per coprire il tutto. Non ne mettiamo troppa, altrimenti ci vuole un sacco di tempo per asciugarsi. E facciamo cuocere i piselli per altri dieci minuti, il tempo che ci vuole. Di tanto in tanto vado a girare. Il tempo che evapora tutta l'acqua che abbiamo inserito per la cottura dei piselli. Vedete, vado a salare. Ovviamente sale quanto basta, perché i piselli sono molto dolci. Fatto ciò, spegniamo la cottura dei piselli di prosciutto e cipolla e guardate come si presenta la besciamella. Nel frattempo abbiamo fatto il composto interno. Vedete, già si è solidificata non esageratamente, che deve essere una besciamella morbida, come vi dicevo. E andiamo a inserire tutto il composto che abbiamo fatto di prosciutto e piselli. prendiamo tutto il composto e lo inseriamo all'interno della besciamella. Amalgamiamo il tutto. Ovviamente la besciamella va ad ammorbidirsi ancora ulteriormente, però è ancora in fase di raffreddamento. Quando si è raffreddata diventerà ugualmente di nuovo più cremosa e dura, ovviamente. Ecco, fatto ciò, inseriamo il parmigiano, giriamo tutto il composto. Il parmigiano dà sia sapore che è un legante dopo nel raffreddamento. Si va a indurire ancora di più il composto e in più dà anche un sapore bellissimo ai condimenti in generale. Fatto ciò, adesso possiamo anche mettere l'acqua sul fuoco. Vi faccio vedere, vado a spaccare i bucadini perché tanto non devono rimanere lunghi perché non c'è bisogno. Spaccandoli, agevoliamo sia il condimento che dopo quando li mettiamo nella teglia. Vedete, vado a calare la pasta come tutte le volte che si fa un semplice piatto. Vado a salare dopo l'ebollizione dell'acqua perché se mettete il sane nell'acqua all'inizio ci vorrà molto più tempo per arrivare l'ebollizione. Questa è una chicca che vi do se vi interessa. All'atto che si spezzano con le mani, io sono un po' già tutto cotto con le mani, posso tastare anche con le mani. Vado a colare la pasta e vado a mettere il tutto prima un po' sul tavolo, ovviamente. Vado a lavorare prima la metà del composto di beciamella in una terrina, poi metto tutta la pasta sopra per agevolare, diciamo, nel girare. e iniziamo a girare un po' la parte di sotto con la pasta e poi inseriamo anche il restante ripieno. Ecco così. Ci aiutiamo con qualche attrezzo che toglie tutti i residui di beciamella dalla pentola. Io uso questa spatola solita mia. andiamo a girare per bene. Vedete che spettacolo. Il tutto. Vedete rimane anche sul fondo meglio che rimane sul fondo così dopo quando lo andiamo a mettere nella teglia abbiamo il condimento a portata di mano se a qualche parte non è arrivato. Vedete che spettacolo. Vi assicuro già l'avrei mangiato così. A questo punto vado ad aggiungere la provola a cubetti. Vi faccio vedere la consistenza. Ecco a questo punto lo aggiungo. Ci sono tante persone che la mettono dopo composte diciamo le frittatine e tutto quanto. Io lo metto alla rinfusa e nel composto in modo tale da prendere ovunque diciamo la provola ed è meno lavorato perché le persone che la mettono all'interno ogni singolarmente ovviamente devono spingere il pezzo di provola all'interno e poi devono rifare la frittatina manualmente. Potete fare anche in questo modo se vi piace in questo modo tipo cocche napoletano. fatto ciò andiamo a inserire il tutto in una teglia vedete ho usato una teglia quadrata classica quella per le lasagne e altre pietanze di pasta vado a dare un'ultima diciamo girata in fase di raffreddamento più è freddo il composto totalmente e più è meglio perché la besciamela si va a distribuire e il ripieno in tutte le parti ecco a questo punto vado a mettere io ho messo un foglio di carta da forno in superficie perché mi dà fastidio quando poi vado a tagliare la pasta e si formano le rigature nelle teglie e perché diciamo che quel composto non fa bene come tante altre cose vabbè lasciamo stare non fa bene alle lavorazioni vanno a finire delle microparticelle di parte aderente, antiaderenti delle teglie negli alimenti anche se non vi accorgete vedo tanti video e tante persone che usano delle pentole antiaderenti e vanno a grattare sempre il fondo vedete è rimasto sul fondo della terrina un po' di composto di besciamela e tutto quanto mi è fatto piacere perché lo vado a distribuire manualmente vedete con la spatola a tutte le parti diciamo che manca un poco vado a mettere in superficie come vi dicevo mai grattare con utensili di acciaio o di ferro queste teglie antiaderenti perché quel foglio che si trova nelle pentole quel foglio nero antiaderente se lo grattate si toglie e va a finire negli alimenti vabbè togliendo questa parentesi vado ad appiattire il tutto e facciamo raffreddare questa teglia come sta per almeno tre ore in frigorifero se lo fate il giorno prima è tutta un'altra storia invece se lo dovete fare in giornata almeno due o tre ore in frigorifero o addirittura in freezer per far rassodare bene diciamo raffreddare il tutto per poi lavorarlo ecco vi faccio vedere come si presenta guardate che bello tutto pieno di roba a punto giusto vi dico la verità quando le ho mangiate non erano strapiene altrimenti dà anche fastidio nel frattempo vado a preparare la glassa esterna per poi la pastella come si dice metto tutta la farina e tutta l'acqua perché poi non è che deve avere una consistenza complicata diciamo da realizzare subito si fa che abbiamo sempre la nostra magica frusta a mano mettiamo tutta la farina e tutta l'acqua giriamo sempre il composto vedete che si tolgono tutti i grumetti vado a mettere sale quanto basta pepe sempre quanto basta fatto ciò andiamo a fare le frittatine che si sono ben raffreddate vedete il composto come si presenta dopo circa tre ore di raffreddamento in frigorifero io ho un coppapasta alto che se è troppo basso non va bene che se supera l'altezza diciamo della frittatina non va bene vedete la prima frittatina è composta l'andiamo a comporre un po' con le mani e un piatto a fianco per appoggiare le frittatine che abbiamo tagliato ovviamente io faccio attenzione al foglio di carta da forno vedete se casomai abbiamo dei pezzi che volano li possiamo adagiare con le mani li possiamo raddrizzare vedete con un po' d'acqua da parte in modo tale che la frittatina si stacca dalla vedete se stanno dei pezzi volanti ovviamente è normale che si va a tagliare a cerchio quindi rimarranno dei pezzi laterali io li vado a inserire nel composto e con le mani vedete vado a finire di arrotondare facciamo questo per tutto il composto ovviamente vedete ovviamente io ho lavorato tutto a fresco se lavorate il giorno prima per il giorno dopo vedrete che si taglieranno che è una bellezza e voilà vado a prendere qualche pezzetto che si è staccato che non entra ovviamente nel cerchio perché giustamente a livello simmetrico il cerchio è una cosa e il quadrato che abbiamo fatto è un'altra vabbè fatto ciò andiamo a fare tutti i pezzi ovviamente vi ho detto che usciranno su per giù 25 fittatine di questa dimensione vedete e lo andiamo a modellare sempre con le mani vado a raccimolare anche i pezzi ovviamente che sono volati via che non sono entrati diciamo nel cerchio e li vado a fare comunque li vado ad addentrare dentro il cerchio e ricavo vedete e voilà fatto ciò tutto il composto è finito ricavo le ultime due fittatine vedete vi faccio vedere ho preparato centralmente la glassa la pastella e a destra ho il pane grattugiato e a destra ancora ho la teglia da mettere il tutto dentro vedete vado a mettere il pane grattugiato lateralmente ovviamente questa operazione è preferibilmente meglio farla a due persone che anziché a una che se non avete dimestichezza una che si bagna la mano poi dopo la deve mettere vedete nel pane grattato e si può sporcare tutto il pane grattato vi faccio vedere questa mia moglie che mi dà una mano non è mai comparsa in qualche video vedete mani femminili va a fare il cerchietto di pane grattato e dopo va a glassare la frittatina vedete e facciamo questo per tutte 25 frittatine vi faccio vedere vedete come si presentano nel frattempo prepariamo l'olio olio abbondante vi dicevo un litro d'olio ci vorranno vedete all'atto che l'olio è bollente inseriamo le frittatine all'interno ho inserito quattro frittatine proprio perché l'olio abbondante che è un litro d'olio in questa terrina adatta alla frittura bella capiente diamo una giratina dopo 2-3 minuti ovviamente l'olio deve essere bollentissimo che tanto non è che deve cuocere chissà che perché tanto la pasta già cotta la beciamella deve rimanere morbida e il tutto deve essere bel morbido quindi non deve cuocere chissà che vado a preparare dei fogli assorbenti in un piatto adesso è pronto vado ad estrarre il tutto vedete che spettacolo facciamo questo per tutte le frittatine e voilà le nostre frittatine sono pronte ci vediamo dopo per l'assaggio il solito assaggio mi raccomando se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like iscrivetevi al mio canale lasciate un commento qui sotto che come sempre vi risponderò a tutti seguitemi sui social facebook instagram e tiktok mi raccomando sotto il link nella descrizione vicino alla ricetta troverete il link per fare la vostra donazione al fine di migliorare questo canale renderlo sempre più competente e interessante se vi è piaciuto questo video sotto al video c'è scritto condividi condividete questo video o altri miei video sulla vostra pagina facebook instagram o tiktok mi raccomando sempre in alto compaiono le schede con le diciture che vi indirizzeranno nelle mie playlist da mie create o da nuovi video che non avete mai visto nel mio canale un bacio a tutti alla prossima ricetta grazie a tutti